Assessore, una riunione agitata, quella di questa sera qui in sala consigliare, a cominciare dalle associazioni di categoria che volevano incontrare il sindaco e l'assessore di Giovan Giacomo, che non c'erano, per consegnare un volantino nel quale chiedevano l'annullamento delle multe nella ZTL. Sì, la riunione era stata programmata per esporre il cronoprogramma dei lavori sui corsi San Giorgio e Corso dei Michetti, purtroppo non abbiamo ancora pronto il cronoprogramma, quindi stasera io ho parlato con i commercianti, la riunione non siamo riusciti a rinviarla, quindi loro comunque sono venuti e hanno partecipato. Io avevo preparato due punti nuovi all'ordine del giorno, che sono gli eventi della stagione estiva, che presenteremo comunque lunedì in conferenza stampa, e il progetto delle casette dell'acqua, che è stato vinto l'appalto e siccome coinvolge anche i commercianti, quindi in pratica era uno degli argomenti all'ordine del giorno. I commercianti sono rimasti, le associazioni di categoria, nelle persone di Giancarlo Darui, di Sfoglia e di Teodoro, hanno preferito portarci un'istanza che non era all'ordine del giorno riguardante il fatto che il sindaco dovrebbe annullare tutte le multe. Lei, Assessore, ha detto pubblicamente che è d'accordo con quello che sta accadendo. No, io non è che sono d'accordo. Mi sembra che già il prefetto stamattina abbia dato un parere sul discorso della vigilanza, quindi è già un primo parere sul discorso della cumulabilità dell'esenzione. Quindi in pratica i ricorsi dovranno essere presentati singolarmente dai cittadini e caso per caso vedremo se c'è un discorso di annullabilità delle multe. Io ho parlato più volte con Giorgi Giovangiacomo, non sono l'assessore competente a questo settore, però voglio dire che l'Aggiunta è un organo collegiale, quindi mi sembra che abbia diritto ad esprimermi su questo argomento. Io ho parlato più volte con questo argomento.